Will & Grace, undicesima stagione, stagione undici e la stagione finale di Will & Grace. Mentre vi sto parlando ho appena finito di vedere l'ultima puntata di questa, per me assolutamente riuscita, bella serie. Questa bellissima serie, questa comedy, questa sitcom, definiamola un po' come vogliamo, che è stata veramente una piacevole scoperta. E' stata una piacevole scoperta diversi anni fa, quando la vidi per la prima volta, e negli anni in cui effettivamente andava in onda per la prima volta da noi, appunto, i primi anni 2000, ed è stata una piacevole notizia, una piacevole riscoperta quando c'è stato l'annuncio, dopo quello special per le lezioni famoso, relativo alla revival di questa serie. Questa serie che aveva avuto, diciamo, per quanto mi riguarda, davvero poche cose da obiettare onestamente. Com'è andata? Com'è andata questa stagione? Questa stagione che ha concluso tutto, ha concluso tutto e in realtà ha lasciato, volendo, alcune cose aperte. Ma la verità è che non era necessario vedere tutto, non era necessario vedere esattamente ogni singola cosa gettata come base in questa stagione e realizzarsi. Anche perché in realtà, se vogliamo, noi abbiamo visto un eventuale finale. Noi abbiamo visto qualche cosa che, per certi versi, era la proiezione del futuro di Willie Grace. Soltanto che poi cosa è successo? È stato annullato. È stato annullato e in realtà abbiamo avuto il revival. Quindi, in realtà, per certi versi, se vogliamo, volendola vedere in maniera molto romantica e un po' comoda, aoltre che per gli sceneggiatori e in generale per la produzione della serie, anche per noi fan della serie, possiamo pensare che non vedendo quello che accadrà, probabilmente questo è effettivamente il finale completo. Quello che non serve vederlo, perché tanto, siamo sicuri, sarà qualcosa di positivo e sarà qualcosa che ci farà piacere sapere e accadrà. Finisce questa stagione che ha avuto fondamentalmente un tema principale, ovvero sia quello della genitorialità. Infatti, la nostra Grace, che aveva preso ed era partita con uno semi sconosciuto per, diciamo, esplorare nuove possibilità nella vita, è tornata e scopre di essere incinta. E, analogamente, allo stesso modo, nello stesso momento, seppur con il suo amico Will e entrambi, dopo aver di fatto lasciato i rispettivi partner o semi partner, se vogliamo, intraprendono il percorso della genitorialità. Infatti, Will, a fronte di la scoperta appunto di Grace, e dopo aver visto l'ecografia, decide che è questo quello che vuole per sé. Ancora più di qualcuno con cui condividere la vita, decide che vuole essere genitore. E quindi anche Will, il buon Will, da solo, come Grace, ma in realtà assieme a Grace, come Grace assieme a Will, decide intraprendere il percorso per diventare genitore. E quindi andrà di madre surrogato. Per poter un giorno diventare papà. È tutto qui. È tutto qui fondamentalmente a quello che c'è da dire in realtà di questa stagione, che non affronta altri temi. Ma questa stagione non aveva in realtà necessità di affrontare chissà quanti e quali temi. In generale, questa stagione è tutto un tema portante. È un tema della famiglia che si sceglie, rispetto a quella in cui magari si è nati. Ed è questa serie tutta basata su che cosa? Sull'apertura al diverso, se vogliamo. Sull'apertura ad altre possibilità, magari differenti da quelli che siamo noi. Ma che comunque può essere amato allo stesso modo, di magari cose che ci sono più vicine, più simili a noi. La stagione è andata via filata liscia. Liscia, 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 davvero. Ci sono state veramente poche gag, secondo me, non riuscite. E come tutta quanta la serie, perché fondamentalmente, quello che ho sempre notato di questo revival, è che questo rilancio della serie è praticamente una continuazione perfetta, se vogliamo, un ripropore perfetto di ciò che era stato allora, per quanto mi riguarda, ha funzionato. Non si può, secondo me, non amare questa stagione di Will & Grace, quest'ultima stagione, se si è amato, in generale, la vecchia serie. E quindi, di conseguenza, io avendo amato la vecchia serie, amo anche questa ultima stagione. Ci sono state, forse, chissà, delle piccole incertezze legate, diciamo, ad alcune tensioni sul set, ho sentito dire. Però, chissà, sono cose che non saprò mai probabilmente di preciso, e in realtà poco mi importa. Poco mi importa perché, comunque, quello che ho visto, per quanto mi riguarda, è stato riuscitissimo. È stato riuscitissimo, come al solito, vedere i pazzi scatenati, Jack e Karen alle prese l'uno, con sempre il suo sonno di diventare un attore affermato e di esordire a Broadway. Al fine di questa stagione finalmente ci riuscirà, in qualche modo. E la buona Karen, che, sempre più lontana dal marito Stan, in qualche modo cerca di rifarsi una vita, anche se magari, alla fine, nell'ultima puntata, così come non è soltanto l'unica che fa questa cosa in un'ultima puntata, per guardare al futuro, deciderà di guardarsi un pochettino indietro e magari ritornare da un amore che, con i suoi predi e i suoi difetti, alla fine è quello che fa per lei. È ora, è il momento, e quindi si conclude la serie. Si conclude la serie con, che cosa? Con Will e Grace, che sono in procinto di diventare genitori, appunto, soprattutto Grace, nel finale, e che sono in procinto di crescere assieme i loro figli. Decidono, infatti, nelle puntate finali di questa stagione, di andare incontro alla genitorialità, in qualche modo, e non semplicemente di staccarsi, di vedersi ogni tanto, decidono proprio di crescere assieme i loro figli. Quindi, alla fine, in qualche modo, anche se eventualmente magari arriveranno dei partner o qualcosa del genere, in qualche modo, loro, il più possibile, perché alla fine, in qualche modo, nei venti e passi anni che sono stati assieme, sono riusciti a fare questa cosa, rimarranno assieme. Chissà cosa accadrà. Chissà cosa accadrà quando magari Will ritroverà, forse, chissà, l'amore della sua vita, magari un amore che inizialmente l'aveva allontanato, ma che alla fine decide di tornare indietro. Chissà se Grace troverà alla fine qualcuno. Un giorno, chissà. Ma non importa, perché alla fine, quello che importa, alla fine della fiera, è, appunto, esserci. Esserci per le persone che ami, indipendentemente da chi tu sia e magari da come gli altri possono vederti. Perché l'importante, appunto, è amare e essere vicino alle persone che si sceglie di amare. È stato il miglior revival che abbia mai visto. Grazie Karen, grazie Jack e soprattutto grazie Will e Grace. Grazie a tutti.